Musica Ben trovati al nostro spazio dedicato agli appuntamenti organizzati nell'ambito del festival Valsassina alla Valle dei Formaggi. Sabato 17 agosto dalle 15 il caseificio Invernizzi Daniele ospita nella sua sede di pasturo il dottor Lemme. Il farmacista dietologo più famoso e controverso del piccolo schermo che presenterà i suoi innovativi formaggi senza sale realizzati proprio in collaborazione con il caseificio Valsassinese. Venerdì 23 agosto alle 18 il caseificio Gildo di Introbio propone past contadino, polenta taragna con formaggio caprino e vino. Una speciale degustazione di formaggi della tradizione Valsassinese accompagnati da vini Valtellina dell'azienda agricola Alberto Marsetti. Su richiesta visita alle grotte di stagionatura. Infine sabato 14 settembre a partire dalle 10 visita alle grotte di stagionatura della Cade Martori di Introbio. Per chi volesse approfondire tematiche legate alla storia secolare della lavorazione del latte in queste valli, segnaliamo che domenica 18 agosto all'agriturismo Costa del Palio di Morterone ci sarà la presentazione del volume arte casearia e zootecnica, tradizioni da leggenda in Valsassina. Maggiori dettagli e tutti i contatti per prenotarsi sono disponibili sul sito www.valsassinallavalledeiformaggi.it o sulla pagina Facebook Turismo in Valsassina. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a tutti.